Zauri, ci aiuti un po' a conoscere questo Sassuolo, squadra che sicuramente ha una classifica che non merita? Sì, forse penalizzato dall'infortunio del suo giocatore migliore che è Berardi, infatti appena è tornato disponibile il Sassuolo ha cambiato marcia, si era veramente abbassato in classifica e insomma si pensava addirittura potesse essere risucchiato, poi la vittoria appunto col Palermo ha dato un pochettino respiro a loro. Hai parlato di Berardi, giocatore di livello internazionale, è a Sassuolo per scelta per lavorare ancora con Eusebio Di Francesco domanda scontata, come si limita il pericolo numero uno? Beh insomma i giocatori forti non si possono annullare appunto, come dici giustamente va limitato è chiaro che è un giocatore che ha nella fantasia la sua qualità migliore quindi non sai mai quello che può fare un giocatore di quel livello, però chiaramente insomma se il nostro reparto o comunque il nostro sistema difensivo lavora come abbiamo preparato e come sa, sa appunto come cercare di limitarlo, è chiaro poi dipenderà anche molto dagli episodi, dalle situazioni che il campo poi dirà. Allora come deve essere limitato, cosa avete detto alla difesa, come l'avete preparata la partita su Berardi ma in generale sul tridente offensivo del Sassuolo? Ma chiaro, questi sono giocatori che più hanno spazio e più poi possono determinare appunto azioni pericose quindi sicuramente una massima attenzione nel momento in cui ricevono palla e quindi sicuramente lavorare sulle marcature preventive che sono giocatori che spesso si smarcano quando la palla girano gli avversari per poi essere innescati nel momento giusto quindi tantissima attenzione appunto a questi giocatori perché quando hanno libertà di movimento sono veramente immarcabili. Se ti dovessi dire guai a concedere le ripartenze al Sassuolo cosa mi rispondi? Ma appunto se gioca come sembra Ragusa che è un altro giocatore che ha grande velocità e che insomma conosciamo abbastanza bene appunto loro sono pericolosi quando la palla ce l'hanno gli avversari per assurdo perché appunto si smarcano e cercano di ripartire quindi dovremmo stare attentissimi a questo tipo di situazioni fermo restando che comunque sia noi se dovessimo metterli lì e riuscire a fare queste marcature preventive per non farli ripartire ecco qua che la partita potrebbe cambiare a nostro favore. Chiaramente difesa a tre o a cinque che dir si voglia. Abbiamo provato entrambe le cose quindi vediamo domani quello che che mister poi appunto decida di proporre ma siamo pronti a entrambe le soluzioni. Dubbio fino all'ultimo alla fine Girardino non convocato. Cosa ci puoi dire di più? Berto Poverino aveva una grandissima voglia Napoli si è visto che era smagnoso di giocare ed ce l'ha messa tutta fino all'ultimo secondo. È chiaro che magari rischiamo per farlo giocare una partita di averlo fuori per un mese quindi a questo punto è meglio farlo riposare tra virgolette una partita per poi averlo a disposizione già dalla prossima. Beppe pronto? Dal primo minuto? È un altro giocatore che purtroppo ha nella sfortuna la sua qualità migliore. È un giocatore che veramente è in una categoria è un giocatore che quando ha giocato ha dimostrato di essere veramente un giocatore molto molto forte giovane sicuramente ma con le grandi qualità. La titolare domani? È a disposizione quindi credo che una chance ce l'avrà insomma attendiamo tutti di vedere il buyback visto con la Sampdoria e con l'Inter. Se ti dovessi chiedere proprio per chiudere una chiave di lettura di questa partita dove vuoi vedere perfetto il Pescara? Ma il Pescara difficilmente vincerà una partita giocando male quindi sicuramente dovremo vedere il Pescara solito che gioca bene al calcio che propone il suo calcio spensierato no perché è una cosa che in questo momento forse non possiamo avere per mille motivi però sicuramente il Pescara deve avere grande entusiasmo e grande voglia di fare è lì che vincemo la partita.